Buongiorno ragazzi e ragazzi Oggi siamo ritornati qui con un nuovo video Con mia sorella ancora E oggi faremo il video aperture slime Ne abbiamo presi 4 Ovviamente ne dico la Due twisty e due fluffy Iniziamo Allora iniziamo da questo Oddio che Sì io lo volevo tanto aprire perché è trasparentissimo Cioè Veramente L'apriamo, ho voluto fare questo video perché l'ho voluto fare da tanto L'apertura insieme Si strappati E oggi apriremo Questi nuovi 4 slime Se volete trovarli anche voi Basta andare in edicola E costano 3 euro e 50 Così dopo E si Si apre Ok Ragazzi Sono stra felice Come sarà Come sarà Il primo slime Questo Per aciale o sporca Un po' Liquido Aspettate raga perché è un po' Appiccicaticcio Appiccicaticcio Date che tolgo i residui Oh una bella consistenza Facciamo vedere quanto trasparente è sto coso Ma Vabbè Tocca Questo sarebbe Lo slime 1 Trasparentissimo Molto viscido Molto allungabile E' un po' Appiccicaticcio E' molto Squiscioso Tocca Tocca Si è un po' Appiccicaticcio Come hai detto Le mani bagnate No vabbè No Wow Allungabile Yeah Super allungabile Ci vediamo Ok Mi trovo qua Primo slime Bellino Wow Ci piacciono un sacco Perché guardate Wow Un po' Appiccicoso Solo perché è un po' Appiccicoso Comunque E' stra trasparente raga Prima quando Prima di aprirlo Sono però affreddata Prima di aprirlo Aprirlo Pensavo che non ci fosse niente Perché era troppo trasparente Lo so a te se lo pensavi Però Questo Lo potete usare come bracciale Adesso faccio vedere Yeah Wow Carino sto bracciale L'apri così Si ragazzi Appiccica un botto Perciò Si dopo ce la rivemo le mani Abbiamo altri slime Da Continuare Devo proprio Pulire le mani Perché è appiccicosissimo Ok Passiamo al prossimo slime Apriamo Si Ok Si Ma si Ma vabbè Non vale È un po' difficile Apri però Vabbè Cosa sarà mai Questo sarà tipo Viola Si una volta che lo apri Viola No vabbè È tipo Trasparente Questo è un po' più Clear Cioè Allora È tipo Oddio che bolla Appiccica Per inizio Questo fa più bolle No Ah no Ah no Ragazzi Piccica Vediamo È più fluffy Però fa più bolle Quindi Ah Piccica No 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 Scusate È caduta la videocamera Ci cade In ogni video Dai Ragazzi Scomettete Sì Sì faccio vedere Prendeteli Assolutamente Raga No vabbè Quanto aspettavo Di fare Sto video Allora tipo Aspetta Prova 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 a prenderla No vabbè Vediamo Allora È un po' appiccicaticcio Un po' Un po' Tanto Che bello Te la faccio vedere Facciamo un po' La pallina Appiccica Tocca Però non prende Lo fa solo così Perché appiccica Veloce Così Basta Non ti appiccica di più No vabbè Sti slime non sono tanto ottimi Perché appiccicano Però L'importante è di che secco Divertente Di che secco Meglio un po' appiccicaticcio Però Cioè No neanche secco Né appiccicoso Non è che mi Convingano tanto Sti slime Perciò Questi slime Mi piacciono sì Però Un po' Cipicaticcio Cipiccaticcio Vabbè Appiccicaticci Però Ok Sono così Tanto abbiamo solo così Per prendere Anche per fare un video Anche perché Ci piacciono tanto Non era solo per fare un video Aspetta Metti quello No Non metterterò più Cioè Non proprio Sì ma Do appiccicare un sacco Vedete Vabbè Niente Lei no Non l'ha toccato tanto Però Questo slime E questo Ne mancano due Ok Mancano due Compriamo la faccia No Che mancano Sti qua Allora Apri Uno Tipo Questo Sì Aspetta Aspetta E ovviamente Togliamo la cosa Non so Non è anche perché Non è questa cosa Sì dovrebbe Aprirsi Un po' più difficile Perciò Aspetta no Numero uno Andato Yeah La penna Ok No vabbè Allora Non so se Ho capito bene Se si appiccio Sono due slime O quelle sono le brilline No Sono due slime No Allora Prima tocchiamo Questo Aspetta Che vuole Ma è stra squiscioso Oh raga Quante palline Eh beh Quante vuoi Due tre Allora Questo è molto Più carino Aspetta Questo si secchera Veloce Perché già Non vedete Comunque è carino Da vedere Aspettate A me non piacciono Tanto questi Per le palline Perché anche Sono duretti Un po' Da allungare Però Sono stra carini Da vedere E da toccare così Come fluffy Carino Questo Carino vero Sì Ok Andiamo con l'altro Che sarà più carino No vabbè Aspetta Aspetta Questa parte è andata Vediamo questo Guardate Scusate Viste che è nuovo Fa un po' così Fa sempre Eh Aspettate Stra consistenza Che bello Guardate perché si Deve modellare Sennò si spezza Quindi brillantino Ok ok Funziona Funzionato Non è fail Questo Vedate Sì Non è da schiacciare Tanto Perché Sennò Si spezzetta Però Oh Carino Guardate Che forte Che forte Aspetta Vedete che faccio La pallina Questo è uno di quello Non tanto Ottimi Però No Sto cosa Non si allunga Un niente Però È bello Perché si modella Si modella Si può modellare E ovviamente Deve squishare Allora L'importante È che vi squish Anche Oh Vabbè Ma guardate Questo Secondo me Rimbalza Uh Vede Guardate Se facciamo Bene La pallina Oh No Vabbè Sì Questo è uno di quello Che rimbalza Comunque Siamo a posto E speriamo Che l'altro Sia migliore Ragazzi Proviamo Anche un secondo Vediamo Com'è Ah Questo Si Vediamo Ci abbiamo Già Parti Ok Vediamo Questo C'è scritto Che sono Profumati Profumati Sì Sì Non profumavo Niente Però No Aspetta Non ho tolto Sto cosa Sì Vabbè Ma C'è sempre Sto cosa Che la Odio In tutti Gli esami Ci sono Cioè In quelli La Particoli Questi Ce la Fiamo Offrire Da qualcun Altra Perché Adesso Il secondo Ehi Raga Che succede Qua Perché Alleluia Vediamolo No Yes, yes, yes No, vabbè, raga Aspetta, ma quanti Aspetta, ma quanti squishiosi Possono essere? Allora, la prima Apertura è ovvio che sono un po' così Sono un po' duretti Ma dopo, no, vedete, raga Perché dovete solo abituarli un po' a modellare Così, vedete, adesso si è ripreso Perché non sembrava duretto, ma no, no Eh, fatto così Poi in più, dipende come sono fatti Perché alcune colla viniliche o alcuni siliconi Non sono proprio adatti a quelli giusti Allora, questo ci piace, se non ci spiace un sacco La prova a fare quella Vado a vedere Eh, sì, non solo con un dito Io l'odio, le persone che vanno con un dito Ah, vado No, vabbè, è troppo squishiosa È più squishiosa che ho visto finora Fai un profumo a prova Secondo me è in balza anche questo Cioè, non è proprio No, vabbè, no, devo farlo vedere No, vabbè, io amo sto colore Lo amo È il mio colore preferito, sto coso Il rosso e il nero Cioè Ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto Mettete un pollice su Commentate Iscrivetevi al mio canale Per non perdere Le mie notifiche Di tutti i miei video challenge E vi mandiamo un grosso bacione есть Cardnellate Bravin No Grazie.